Acabò un tempo, ragazzi, traduzione, il tempo è scaduto, big fail sull'account twitter ufficiale brasiliano Fortnite Brasile ha pubblicato il trailer completo della season 10 invece del trailer che abbiamo visto pochissimo fa, globale Con i primi secondi in cui la sfera a spone del saccheggio esplode, ragazzi che enorme fail E ormai ovviamente il video è già in rete raga, è ovunque, su twitter, su youtube, sui siti, è ovunque Grandissimo fail ragazzi da parte di Fortnite Brasile Quindi raga cosa facciamo? Siccome un'ora fa ho caricato il video in cui abbiamo visto la prima parte del trailer Raga, big spoiler, intanto like se siete in hype per domani raga Big spoiler, attenzione, tra 20 secondi circa adesso vi faccio vedere il video svelato ovviamente su twitter Facciamo una reazione insieme, quindi se non lo volete vedere ragazzi chiudete il video adesso Lo so che è brutto dirlo, non vorrei farlo ma se non volete vedere il trailer, se preferite aspettare domani mattina Mancalo comunque poche ore, potete chiudere il video, altrimenti guardatelo Tanto raga vi consiglio di guardarlo, ormai sta ovunque quindi se non lo guardate qui lo vedrete altrove prima di domani Ragazzi siete pronti per la season 10? Hype! Andiamo a guardarci questo trailer che da quel che vedo raga ripercorre un po' gran parte della storyline Si chiama ElvaDoc, quello che ha preso in tempo il trailer del Fortnite brasiliano, guardiamolo Eccoci qua ragazzi, dimensione viola, blu, azzurrina, bianco come dentro alla sfera sponda E qui c'è il razzo quindi sta ripercorrendo come dicevo un po' quelli che sono stati i big eventi Qui l'SMG che attualmente non c'è in game, abbiamo visto anche i rift Qui intanto il nostro pesce seco che sta remando come non ci fosse un domani E qui appare lo scheletto mio che mangia popcorn con il cubo e la famosa farfalla che abbiamo visto nell'evento del cubo Con questa dimensione bianca Qui c'è un'atmosfera natalizia Ok ma andiamo avanti, per stata attenzione raga Tra poco sembra che ci sia la skin del robot svelato nel teaser di ieri o l'altro ieri Eccolo, avete visto quel coso che vola? Raga sembra veramente lui, sembra il robot che abbiamo visto nel teaser Riguardiamolo un attimino poi andiamo avanti Eccolo, sarà forse lui raga? Sarà forse lui? Andiamo avanti, qui c'è la bananita Quindi fa gli occhioni, dietro c'è il kart E sta cadendo, attenzione, boom Cosa c'è lì a destra ragazzi? Magazzino Muffito Magazzino Muffito è qui raga il meteorite prima che vada a colpire l'area di magazzino Temporada X, hack bow tempo Season 10, il tempo è scaduto Riguardiamolo insieme velocissime ragazzi Mi dispiace per Pornel Brasile Evidentemente c'è dei social media manager non attenti Perché fare un errore simile ragazzi ce ne vuole eh Ma vabbè lì lo ricapitano raga, lì lo ricapitano Raga andiamo avanti ancora Bene intanto l'atmosfera Intanto guardate raga C'erano delle palle di fuoco che stavano cadendo dal cielo Avete visto? Andiamo avanti Qui l'evento del cubo Qui i regalini di Natale Andiamo avanti Qui continua a svolazzare Poi si ritrova da tutt'altra parte raga Lì a terra vicino a magazzino Muffito Raga nel video di stamattina abbiamo parlato un pochino di diverse cose Sempre riguardo ai teaser precedenti Ma Cambiamenti alla mappa Sicuro magazzino Da questa parte qui del trailer Il resto ancora non lo sappiamo E lo scopriremo signori domani Quindi raga Non so veramente cosa cambierà della mappa Se ci saranno tanti nuovi punti di interesse o meno Ma ragazzi Like per questo video di oggi E aspettiamo domani mattina di scoprire il resto raga Quindi Ragazzuole andiamo Ci vediamo domani Ciao raga Ciao